Facevo la scuola medie alla San Domenico, dove oggi c'è il tribunale. Nel pomeriggio e l'estate facevo molto caldo e ne ero sposto in pieno sole, per cui la maestra faceva abbassare delle tende di cotone rosso scuro molto spesse. In quella tenda c'era un buco, per cui io vedevo tutta la piazza San Domenico. Facevo delle ore a guardare questa meraviglia e questo l'ho identificato come il mio primo contatto con la fotografia. La fotografia La fotografia La fotografia Grazie. Grazie a tutti.